Impianti vecchi, insufficienti, carenti di manutenzione, senza requisiti minimi di sicurezza, dati in gestione con logiche partitiche, senza alcuna trasparenza, sono l'emblema del fallimento di una classe politica. Noi proponiamo un sistema di valutazione dell'uso degli impianti sportivi, l'adeguamento delle piscine comunali, del campo scuola e del palazzetto di Avenza, promuovere collaborazione tra le scuole e le società sportive, recuperare la vocazione marinara del territorio favorendo sport come vela, surf e sport simili. Grazie a tutti!